Quando uno nasce nel mare, è particolarmente attaccato a questo posto. È molto diverso da chi è attaccato, invece, chi vive in città o in un paese. Qui a mare siamo un tutt'uno. Noi artisti dobbiamo fare una cosa, è trasmettere bellezza e poesia. E questo è che salverà il mondo. E voi giornalisti dovete trasmettere verità. Grazie a tutti.